Caos e ritardi in tutti gli aeroporti italiani è quanto prevede il sindacato di controllori e assistenti di volo unica per il prossimo 15 febbraio dopo l'annuncio dello sciopero di 24 ore dei propri iscritti. Almeno il 70% dei dipendenti in turno nelle sale operative aderirà allo sciopero. Ad incrociare le braccia potrebbero essere anche i dipendenti dell'aeroporto di Capodichino con conseguenti problemi in partenza e in arrivo anche per lo scalo partenopeo. Il blocco dei cantieri della metrolinea 6 per le griglie al plebiscito finisce sul tavolo della Commissione europea. Al rischio 98 milioni di fondi europei indispensabili per il completamento della metro costato oltre 1,2 milioni. L'infrastruttura è pronta al 95% per le opere civili e al 70% per le tecnologie, ma il rischio che tutto si possa bloccare per una grata di 20 metri quadrati è altissimo. Il Comune di Napoli spera ancora di poter salvare la situazione vincendo i ricorsi saltare sulle griglie. Da venerdì 1 febbraio riapre la strada che conduce al Gran Cono del Vesuvio, sopra il luogo nell'area in cui sono in corso i lavori per la messa in sicurezza della strada che conduce al cratere. In due mesi rimossi gli elementi di potenziale pericolo lungo la strada per cui da venerdì sarà riaperto il tratto che conduce al Grande Cono. Programma di bike sharing e bus a basso impatto ambientale per Bacoli e Monte di Procida. Il progetto deriva da un accordo siglato tra il Ministero dell'Ambiente e il Comune di Napoli per il miglioramento della qualità dell'area per un valore di 2 milioni di euro, di cui uno e mezzo a carico del Ministero o 500 mila dell'amministrazione metropolitana. Oltre alla realizzazione del programma di bike sharing, l'intesa prevede anche l'acquisto di bus a basso impatto ambientale per la zona Flegrea e per il Vesuvio, quattro dei quali sono già stati acquistati. Anche il Centro Storico di Napoli, tra le bellezze del patrimonio mondiale dell'umanità, ha portato in un'acquisto di un'acqua. data di treno, raccontata in un travel book di Trenitalia presentato a Roma. Napoli dunque tra i 54 siti dell'UNESCO presenti sul territorio nazionale, raggiunti anche grazie ai collegamenti giornalieri regionali e servizi quotidiani effettuati con le frecce Trenitalia.